ciao a tutti e ben trovati sul mio canale veri ASMR grazie per aver scelto questo video rilassante spero di farmi perdonare oggi con l'uso del Tascam perché la volta scorsa vi ho pubblicato un video registrato con il Blue Yeti era un video veramente lungo, tutto in whispering però non so per quale assurdo motivo il Blue Yeti non abbia funzionato eppure era acceso ma deve essere stato un problema di collegamento del microfono al pc e quindi vi siete peccati, l'audio lo fai vabbè ogni tanto ci può stare questa volta invece audio pro con l'uso del Tascam spero possa rilassarvi sono qui per fare l'unboxing del mio nuovo telefono infatti ho comprato l'iPhone 12 ragazzi sono veramente molto contenta di questo acquisto e spero vivamente che non mi deluda sapete che non troppo tempo fa avevo acquistato un Samsung Note 10 che mi è piaciuto tanto per quanto riguarda l'apparato e la fotocamera ma che mi ha deluso parecchio per quanto riguarda la batteria cioè veramente una durata minima con l'utilizzo abbastanza intenso che ne faccio io non arrivava neanche a sera ce l'ho ancora questo telefono perché per quanto riguarda appunto l'apparato foto e video a me piace e non intanto liberarmene almeno per un altro po' però molto probabilmente il mio telefono principale alla fine sarà quest'altro che ho comprato ora procediamo insieme all'unboxing quindi indossate le cuffie stendetevi oppure sedetevi in un posto comodo mi raccomando lasciate anche un mi piace a questo video e soprattutto se ancora non siete iscritti al canale perché fatelo cliccando la campanina per non perdere i prossimi video rilassanti e noi iniziamo ah, importante seguite il video fino alla fine perché questo è anche il primo video del mese di settembre e dunque anche il video in cui ringrazierò gli abbonati del mese di settembre allora ragazzi devo dirvi un sacco di cose in merito all'acquisto che ho fatto ma in primo luogo vorrei parlarvi dell'inquadratura del video avevo la possibilità di ribaltare la fotocamera per fare l'unboxing però non lo so, forse così mi piace di più quindi alla fine lo farò mantenendo questa inquadratura e spero che vada bene per voi guardare anche la mia faccia nel caso non aveste deciso di chiudere gli occhi per addormentarvi completamente farò anche un po' di suoni il tapping sul cartone è notevole allora prima info ho acquistato come potrete intuire dalla scatola il telefono su Amazon e non direttamente dal sito di Apple perché preferisco così credo di avere non lo so un'assistenza migliore comprando voi telefoni e dispositivi elettronici da Amazon forse sbaglio però ho sempre fatto così finora mi sono trovata bene ho preso anche degli accessori che vi mostrerò dopo tra l'altro ragazzi questo sarà il mio primo iPhone io ho avuto altri prodotti Apple ho avuto un iPod l'iPod Touch e ho comprato di recente il MacBook Air che fa una bomba mi piace moltissimo questo sarà appunto il mio primo telefono Apple ho preso l'iPhone 12 perché avrei potuto prendere in effetti l'iPhone 12 Pro o l'iPhone 12 Pro Max però il Max mi sapeva proprio troppo di padella gigantesca e avevo paura di non trovarmi ci bene mi piacciono i telefoni abbastanza piccoli e questo la misura diciamo del del 12 e del 12 Pro mi sembrava l'ingiusto compromesso poi per quale motivo non ho preso il 12 Pro in effetti facendo foto e video forse sarebbe stata la scelta preferita di molte persone però io volevo risparmiare un po' già i prodotti Apple hanno secondo me un prezzo veramente molto molto alto non voglio dire eccessivo perché non ho mai testato la qualità dei telefoni e non saprei fare un rapporto qualità prezzo però sicuramente sono prodotti con un prezzo molto alto rispetto agli altri competitor diciamo nel mercato quindi volevo risparmiare un po' e soprattutto volevo un telefono viola infatti vedete ho preso questo qui nel colore viola e guardando la recensione fatta da Andrea Galeazzi ho capito che più o meno il comparto fotografico è simile c'è una una fotocamera in meno sì e manca lo stabilizzatore quello non so di che tipo fatemelo sapere voi se siete più esperti di me comunque a livello diciamo di resa foto e video più o meno siamo lì facciamo il passo più piccolino dai ok allora direi di iniziare lo spacchettamento usciamo la linguetta nel frattempo cani che appaiono in sottofondo non lo so dovrò tagliare tipo 10.000 minuti in questo video che buon odore sa dico all'artiglio avete presente l'odore che c'era nei negozi tipo calzolai o di belletteria proprio quello che buono che bello questo è per creare hype bella la confezione comunque e qui abbiamo il telefono lilla già calcolata che stavo per prendere l'iPhone 11 solo per averlo di quel colore che poi è un lilla un po' diverso di un lilla più pastelloso più chiaro e poi ho detto vabbè dai a questo prezzo prezzo il 12 allora prima di vedere il telefono diamo una rapid'occhiata che cos'altro hanno messo nella confezione poco altro c'è il cavo e manca ovviamente il caricabatterie però io ne ho già uno e qui invece c'è il come si chiama lo spillo per mettere la sim le istruzioni ovviamente un adesivo della mela non ho mai capito a che cosa servono queste cose lo dovrei mettere io un po' tipo forse per lei fanno spiegatati della Apple ma io non mi appassiono a nessun brand in particolare a parte alle sketchers ok allora no vediamo il telefono no che carino praticamente qui hanno messo che cos'è questa cosa una protezione in carta qui c'è la doppia fotocamera vedete meno più silenzioso e di qua invece c'è il tasto di accensione spellicoliamo eccolo qua bello 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 come estetica è notevole speriamo valga anche la pena dal punto di vista della funzionalità e allora possiamo fare due cose tipo la prima è metterci sopra il vetro temperato e la seconda è applicare una cover che ho comprato all'interno di questo pacco c'è il vetro temperato e andiamo a scartarlo allora vedete ce ne sono tre tre pezzetti nel caso dovesse andare male l'applicazione di uno oppure nel caso dopo un po' di tempo si danneggiosse lo andiamo a mettere tipo immediatamente perché con il con il fratellino samsung ho avuto un sacco di problemi ragazzi tipo che si è graffiato appena comprato e poi andiamo pulire il vetro dare si di pulvere un sacco di ok qui dentro invece abbiamo una cover per ora ne ho presa una molto semplice trasparente vediamo che altro mi tiene la confezione ok d'altro significativo ah wet wipe questo vabbè per pulire carina andiamo ah ma è bellissimo c'è anche un panno qui usiamo anche per la parte frontale così è tutto pulito così a posto che è di te carino vero ok non mi resta che accenderlo e completare l'installazione intanto vi ringrazio per avermi seguita fin qui e vi farò sapere presto come mi troverò magari su instagram dove vi consiglio di andare a seguirmi se ancora non lo fate mi chiamo sempre feri smr ora vado a leggere i nomi degli abbonati dal secondo livello in poi e a fare loro un ringraziamento speciale permettendo che ringrazio ovviamente tutti gli abbonati del mese di settembre di cui ho scritto i nomi nel post dedicato in scheda community qui su youtube e di cui scriverò i nomi anche giù nell'info box grazie a tutti 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 voi per aver deciso di sostenermi anche questo mese e come promesso bisogna andare a salutare gli abbonati dal secondo livello in poi allora facciamo un saluto speciale a giuseppe elmar booman giovanni miale udo morna pittscon claudia rotten queen roby roby 84 abble marco marta mers alazared nor 96 marco davarni romina misio e daniele toff 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 lond grazie ragazzi di vero cuore a tutti voi spero che il mio video unboxing vi sia piaciuto ci vediamo molto presto con nuovi video ora che fa un po' meno caldo e soprattutto ho montato i condizionatori penso di riuscire a regalarvi qualche video in più io comunque sono online anche su twitch da lunedì al venerdì dal lunedì al venerdì tranne il martedì dalle 10-10 e mezza in poi quindi se volete seguirmi anche lì vediamo sempre veri aspr e basta noi ci vediamo al prossimo video non dimenticate di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e per supportare ovviamente il canale e di iscrivervi se ancora non lo avete fatto ci vediamo alla prossima un bacino di patosi